Le imprese che lavorano nel settore delle fiere e dei congressi e quelle che operano in quello di matrimoni ed eventi privati possono fare domanda fino al 31 gennaio per ottenere i contributi messi a disposizione dalla regione toscana per chi ha subito perdite a causa della pandemia. In particolare chi lavora all'allestimento di convegni e fiere che la pandemia ha reso impossibile realizzare per lungo tempo potrà contare su aiuti da 1000 a 10.000 euro. Anche in questo caso il requisito per accedere è una perdita nel 2020 rispetto al 2019 di almeno il 30 per cento del fatturato o dei corrispettivi. La regione ha stanziato per questo 500.000 euro. Le aziende dell'indotto delle feste private a partire dai matrimoni compresi liberi professionisti quindi fotografi, sarti, fiorai, ristoratori e catering per fare qualche esempio potranno richiedere un contributo a fondo perduto di 2.500 euro. L'aiuto non potrà però essere cumulato con il ristoro per le imprese che lavorano con fiere e convegni qualora abbiano richiesto anche quello. Per accedere al sostegno occorre aver visto il proprio fatturato diminuito del 30 per cento nel corso del 2020. La regione ha stanziato per questo 934.000 euro. I due bandi fanno parte del pacchetto di 21 milioni di euro di ristori e contributi a fondo perduto che si sommano ai 34 milioni già stanziati con i vecchi bandi già chiusi e a quelli altri 6 milioni annunciati nelle settimane scorse e tuttora aperti. I bandi saranno tutti gestiti da Sviluppo Toscana, Società della Regione Toscana. L'esame delle domande pervenute sarà conclusa entro 30 giorni dalla chiusura del bando.